Ciao ragazzi! Cos'è questa storia che chiude il teatrino delle bestie? Che vogliono fare chiudere l'arte, la cultura? Ma sono impazziti! Che veramente dici? Cerchiamo un pochettino di dare un po' di sostegno a questo teatro che ne ha bisogno! Assolutamente! E quindi vi presentiamo con lo stile improvvisato il fatto che dobbiamo dare sostegno a questo teatro e quindi vado dalla A alla Z passando fino alla F salviamo il teatrino delle bestie adesso ancora senti che Giorgio non la smette si trova in via dei spukes numero 7 adesso ancora senti in mente il canto sfondo il teleschermo salviamo il teatrino delle bestie a Palermo! Oh! Mi raccomando!